Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi in cui andremo a esplorare una realtà un po' diversa dalle solite. Questa volta infatti andremo a curiosare il modo di eseguire dell'analisi di statistica per la qualità senza usare strumenti noti, commerciali e decisamente leader di mercato come Minitab, ma utilizzando strumenti open source. Questo nella serie di webinar di collaborazione con GMSL è il primo a vertere su dei temi del genere, quindi è un po' particolare, ma fin da ora vi faccio subito una promessa che per quanto andremo a vedere del codice non sarà assolutamente il codice la cosa su cui dovrete porre la vostra attenzione, anzi ci andremo veramente veloci su quella cosa, io non porrò alcuna attenzione al codice in sé, quanto piuttosto al fatto che con R, perché questo è lo strumento che utilizzeremo oggi, è possibile realizzare analisi statistiche di assoluta qualità in modo del tutto analogo a quello che può fare un software commerciale come Minitab. Quindi fin da subito stiamo facendo vedere un'alternativa a Minitab? No, 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 non esattamente. Stiamo facendo vedere qualcosa che svolge delle funzioni simili e per certi versi coincidenti con Minitab, ma che si rivolge a un tipo di esigenza differente, perché nel momento in cui andiamo a utilizzare degli strumenti open source, vuol dire che fondamentalmente stiamo scegliendo non solo di pagare in un modo diverso, nel senso non si sta pagando una licenza, si pagherà una consulenza, ma si sta andando a scegliere di sviluppare, questa è un'ottica commerciale, poi l'hacker chiaramente con gli strumenti open source fa cose che tipicamente sono senza prezzo, ma non è questo il nostro discorso. Quindi programmare, sviluppare vuol dire realizzare prodotti altamente customizzati sull'esigenza dell'utilizzatore finale. In particolar modo la tecnologia che noi con questo primo webinar sull'argomento andiamo a introdurre, a proporre, è una tecnologia che si apre completamente in modo naturale a quello che è il trend attuale dei big data, large data set o come volete chiamarli, e in particolare quindi si avvicina anche al discorso più generale della data science, che è un tema che abbiamo affrontato nel webinar, in uno dei recentissimi webinar, la cui registrazione trovate sui canali youtube, il collegamento dai siti GMSL, quindi potete andarlo a risentire tranquillamente o chiedere direttamente a noi delle lucidazioni in merito. Bene, abbiamo detto che parleremo di R. R è un linguaggio di programmazione, questo giusto per farvi capire che effettivamente non è un prodotto commerciale all'immediata portata di tutti, R è un linguaggio di programmazione e questa che vedete è la pagina principale del mondo R, r-project.org. Una pagina che è uguale a se stessa da anni e anni, perché tanto R vive diversamente con le sue communities, con i suoi utilizzatori, fondamentalmente come tutti i linguaggi di programmazione è rivolto ad un pubblico, oserei dire, tecnico se non nerd, perché R in particolare non è un linguaggio di programmazione, ma è un linguaggio di programmazione nato, pensato, ottimizzato per la matematica che è la statistica. Quindi se volete sviluppare dei videogiochi R no, non va bene, se volete fare delle analisi statistica R è assolutamente la scelta. È un linguaggio di programmazione interpretato, che vuol dire quindi viene eseguito direttamente mentre il codice viene letto, sostanzialmente stringendo, mi perdonino gli informatici, può essere anche compilato e ha la bellissima caratteristica che può eseguire operazioni in parallelo. In particolare vorrei farvi vedere una cosa, scusate questo mal di mare, magari lo andiamo a prendere così, facciamo prima, ecco, esistono tanti libri su R, ce ne sono alcuni per esempio, per esempio questo, Parallel R, che è un libro intero dedicato all'esecuzione di calcoli e analisi in parallelo con R. In parallelo cosa vuol dire? Che se ho un computer ci metto un tempo x, se ho due computer ci metto un tempo x diviso 2, se ho 10 computer x diviso 10, ok? E così via. Quando dico computer intendo nodi di calcolo, quindi processori. Ebbene, R, oltre ad avere molti modi per poter eseguire questo tipo di elaborazioni, quindi lavorare su dataset molto grandi, si interfaccia molto bene con quelli che sono quei, chiamiamoli file system, alcuni li chiamano database non relazionali, però di fatto sono dei file system come Adop, Adop che è la soluzione più diffusa attualmente in uso a realtà enormi come Facebook, LinkedIn, Google, dove si gestiscono veramente tanti dati e il calcolo, l'analisi, la gestione di tutta questa mole di dati viene suddivisa su N.000 macchine ed analizzata però con una soluzione unica. Quindi R si presta a fare questo tipo di lavori. Poi esistono moltissimi testi su R, R in particolare oltre a produrre indici, analisi statistiche, è un linguaggio in grado di produrre reportistica per immagini grafici molto avanzati di ogni tipo e genere che vanno dai più banali bar chart fino a grafici più tecnici, vedete, e scorrendo molto veloce qua possiamo fare veramente ogni tipo di grafico con R, fondamentalmente ogni tipo di grafico ed ogni tipo di analisi può essere svolta con R e resa in modo grafico sia con soluzioni prettamente tecniche sia con soluzioni da reportistica quindi da mostrare in fase di presentazione del lavoro, quindi sapete bene la differenza tra grafici tecnici e grafici da presentazione. Quindi un linguaggio ricco di potenzialità però ahimè, ahimè, un linguaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per usare R non vi basta come con Minitab prendere mouse, tastiera e mettervi a giocare con i dati. Per usare R bisogna sapere programmare, quindi conoscere le basi della programmazione, conoscere il linguaggio R, eccetera eccetera. Insomma non è una cosa immediata. Per questo motivo, come avevo preannunciato, oggi noi cominciamo a parlare di R come strumento open source per l'analisi statistica. Il 31 di gennaio invece faremo un altro webinar già programmato a cui potete già iscrivervi in massa, in cui parleremo di EasyR. EasyR è una soluzione sviluppata in collaborazione con GMSL, che utilizza R come motore statistico, quindi tutto il calcolo, l'analisi, la realizzazione di grafici, così come il calcolo di indici statistici, viene svolto con R, ma l'interfaccia, che è assolutamente web based, è tale per cui effettivamente potete lavorare con i dati, anche large dataset, quindi lavorare su database relazionali e non collegati al sistema, e l'interfaccia grafica, quindi potete utilizzare il vostro mouse senza conoscere una sola riga di linguaggio R. Quindi il 31 di gennaio parleremo di EasyR, però nel frattempo oggi conosceremo quello che può fare R per la statistica e per la qualità. Quindi questa è la pagina, vedete, iniziale del progetto R, progetto R che è legato a, lo ricorderete magari qualcuno di voi, a S+, eccetera, eccetera, quindi è un progetto non a uno modo del momento, ma assolutamente radicato nell'ambiente statistico e dell'analisi. R ha una cosa molto bella, che se da un lato ha un linguaggio di programmazione particolarmente oastico, dall'altro è talmente diffuso, talmente grande la comunità R, specialmente in ambiente accademico, ma all'estero anche in ambiente business, che esiste tutto un repository che si trova qua, crann, R, eccetera, dove si trovano un'enorme quantità di packages, eccoli qua, già disposti. Cosa sono questi? Praticamente sono dei moduli che già svolgono determinati compiti. Praticamente esiste gente nel mondo che ha sviluppato dei pacchetti di codice R, li ha resi tali che a me basta un doppio clic per installarli dentro il mio R e averli a disposizione, con una relativa documentazione di esempi di utilizzo, e ognuno di questi pacchetti fa un qualcosa di specifico. E con questo quindi R è molto ricco, perché esistono già tantissime cose già fatte. Vedete, per esempio questo pacchetto che si chiama ABD fa analisi per dati biologici, ci sono ABN invece, Data Modeling with Additive by Asian Networks, e così via. Ce ne sono veramente di ogni tipo e genere. Ogni tipo e genere. Quindi, prima cosa quando si usa R, vedere se per caso esiste un pacchetto che faccia già quello che mi serve. Diversamente mi metto a programmare, oppure, oppure ancora, mi rivolgo a qualcuno che programmi che conosca R e mi faccio sviluppare il mio modulo operativo, che poi utilizzerò col mouse tranquillamente da una bellissima interfaccia grafica, e che usi R, che si è integrato dentro, per esempio, una piattaforma fatta apposta come EasyR, che vi permette di avere le potenzialità di R a portata di mouse, su PC, Mac, Linux, Unix, soprattutto in rete ovunque, quindi anche su smartphone e iPad, o tablet che dir si voglia. Lo vedete qua, queste sono immagini realistiche, è un esempio di EasyR portato su iPhone, Mac, MacBook, ma può essere un qualsiasi computer e un tablet. Sugli screenshot potrete vedere, esistono diversi tipi di implementazioni, perché EasyR non è un prodotto, ma è un prototipo che di volta in volta viene customizzato a partire da una base comune su specifiche esigenze. E ora, veniamo a R. Per fare questo webinar ci avverremo appunto di uno dei tanti packages già esistenti, questo package si chiama QCC, è fatto da un italiano a cui vanno i nostri ringraziamenti perché ci ha risparmiato del lavoro e ha fatto un ottimo package, Luca Scrucca, mi sembra doveroso citarlo, dell'Università di Perugia. Lui ha fatto questo package QCC, liberamente disponibile, per R, che noi ora andremo a utilizzare per fare degli esempi. Oh, che brutto, adesso è comparto del linguaggio, ma vi ripeto, il linguaggio che è nella finestra qua a sinistra, questo è un po' di linguaggio R, qualche righetta di codice, non è assolutamente quello che ci interessa, perché ora quello che farò è farvi vedere come, utilizzando dei dataset di Minitab, quindi quelli che vengono dall'insieme dei dati distribuiti con Minitab come dati di esempio, riusciremo a ricreare le stesse analisi utilizzando R, a partire da questo package. L'unica cosa che vi faccio notare nel codice è che c'è questa riga dove andiamo a richiamare la libreria, è il package QCC, vedete, Library QCC, questo comando carica la libreria. Ora faremo un esempio di carta di controllo per individui, e andremo a utilizzare quel dataset di Minitab in cui si parla di riempimento di scatole di gelato, quindi andiamo a controllare che le scatole siano riempite in modo omogeneo, ok? E né più né meno, quindi utilizzeremo una carta per individui, andiamo a caricarci il dataset che opportunamente ho preparato, in questo momento sto utilizzando un programma per editare R che si chiama RStudio, anch'esso è gratuito, è un bello strumento, si differisce molto da EasyR che vi farò vedere il 31 di gennaio, perché? Perché RStudio è fatto per scrivere codice, quindi è per il programmatore, io programmo con R, uso RStudio, questo è comodo, invece, anzi è senz'altro un strumento comodo, invece EasyR è pensato per, io voglio usare R, la potenzialità di R per svolgere analisi, anche calcoli paralleli, distribuiti, analisi intense, lavorare su database di ogni tipo e genere, lavorare su dataset eterogenei, poter fare pulizia dei dati, organizzare la raccolta dei dati in modo automatizzato, eccetera, eccetera, avere reportistica anche quando sono in giro per il mio smartphone, il mio tablet, eccetera, ecco quello è EasyR, senza conoscere il linguaggio R, ma sfruttandone appieno la potenza. Ora importiamo il dataset, andremo a prendere dentro dataset webinar open source dataset, andremo a prendere Icecream CSV, ce lo importiamo, vedete, ok, tutto a posto così e lo importiamo, perfetto, ora è stato importato il dataset, torniamo al nostro codice, ora carichiamo la libreria QCC, ci sono diversi modi, vedete, ora voi non, magari noterete poco anche per via della connessione video, io posso o evidenziare il codice che voglio far eseguire e poi fare run, oppure banalmente, che cosa che farò perché è un po' più comodo, più veloce, mettere il cursore sulla riga che mi interessa, in questo caso questa, con una combinazione di tasti, far eseguire la cosa, vedete, in questo caso ho fatto caricare la libreria QCC e la libreria adesso è a mia disposizione. Quindi ora vediamo con cosa sto lavorando, andremo a vedere i nomi, vedete, abbiamo caricato un dataset che ha due colonne, field weight e date time, ma il dataset l'abbiamo già anche visto sotto, il dataset è questo qua, vedete, è esattamente quello di Minitub, ce lo siamo caricati dentro a RStudio e ora andremo a eseguire delle analisi su di esso. Quindi torniamo al nostro codice, perfetto, ora andremo a fare una carta, questa, facciamo una carta per individui, qua, vabbè, in questo package, ma è una cosa solamente di notazione, la chiama xbar.1, vedete il tipo di carta è xbar1, va bene, perché ho una misura alla volta, quindi non ha sottogruppi, facciamo così, ed ecco qua la nostra carta. Vedete, anche R chiaramente esegue, crea dei grafici di tipo vettoriali, quindi posso ingrandirli a piacimento quanto voglio, ho fatto la mia carta per individui, vedete, fatta in un attimo con R e a questo punto potrebbe essere bello andarla a confrontare con quello che invece viene prodotto da Minitub. Quindi scusate che mi ero messo un appunto nel codice per andare a vedere, mostra G1 PNG, perfetto, quindi andremo a prendere il grafico G1. Ecco qua, questa è la stessa carta eseguita con Minitub. Vedete? Allora, questa è quella di Minitub sullo stesso dataset e questa è la carta eseguita con R. Vedete? Anche i limiti superiore e inferiore, 1138, 1188, 1138, 1188, la carta è assolutamente identica. Ma perché è identica? Perché sia Minitub che questo package si basano sulle regole e i modelli matematici riportati in quella bibbia della statistica per la qualità, quindi in Montgomery, libro famosissimo nell'ambiente e quindi il risultato a partire dai stessi dati non può che essere lo stesso. Io me l'aspettavo però e a voi in realtà sto mostrando come con R si possano fare gli stessi tipi di analisi ottenendo risultati identici. Ora andiamo a fare invece un'altra analisi, facciamo anche una capability, sempre sul nostro riempimento di scatole di gelato. Vedete abbiamo un valore target e abbiamo i limiti di specifica, 1100, quindi un chilo e cento, un chilo e due o quello che è. Facciamo la capability. Ecco qua la nostra capability fatta con R. Andiamo subito a vedere, abbiamo un cpk di 1,45, vedete? Apriamo il grafico 2, ecco qua, abbiamo un cpk di 1,45, questo è fatto con Minitub chiaramente, no? Vedete? Grafico fatto capability, analisi di capability fatta con Minitub, analisi di capability fatta con R. Poi per quanto riguarda l'aspetto estetico del grafico, l'aspetto estetico chiaramente in R può essere giocato e rigiocato in mille e mille modi, a partire dai colori di ogni singolo elemento, il tratteggio, la dimensione, dimensione, lo sfondo, la dimensione, il posizionamento dei titoli, l'aggiunta di labels, titoli, parole, commenti, leggende da ogni tipo di parte e genere, la dimensione dell'immagine stessa, vettoriale, quindi può essere integrata in pagine web dimensionandola come più pare piace e le analisi possono essere inserite, i valori numerici sia sul grafico stesso come in questo caso, sia a parte in tabelle, in report, cioè si può veramente giocare nel modo più libero possibile con quello che è l'output. Però vedete, ecco, per ora abbiamo fatto quindi un esempio di carta di controllo per individui e di capability su un dataset di Minitub e abbiamo visto che tanto i grafici quanto i valori numerici resi da R sono assolutamente identici a quelli resi da Minitub. Ok, a questo punto passiamo a un altro esempio. Ecco, un attimo qui ci giochiamo un po' di più. Questo è il dataset di Minitub in cui si... dunque questo viene dalla parte in cui si parla di capability, capability per dati normali, se non ricordo male, si per dati normali e si andava a creare, a misurare la copertura di un cavo, quindi la thickness, lo spessore di questa copertura doveva avere certi limiti di specifica che troviamo qua sotto tra 39 e 43 con un valore target di 41. Ok, ora noi andremo a giocare con questo dataset, andiamo a vedere, quindi prima di procedere carica il dataset capability.csv, quindi tools, import, dataset, from text files, dataset webinar, dataset, abbiamo detto capability, ok, e lo apriamo. Questo era anche un bel esempio perché succede un problema di codifica sul nome, vedete che qua legge male il titolo della colonna, vabbè, poco male, io prendo il mio bel dataset, il titolo della colonna così lo trovo particolarmente fastidioso, quindi ora... allora, se non l'avessi già fatto, innanzitutto carico la libreria, ma la libreria ce l'avevo già. Vado a correggere il nome della colonna, vedete, con questo comando, ora controllo i nomi, ho, perfetto, ho a che fare con due colonne che si chiamano thickness e subgroup, ok? Perfetto, a questo punto, mentre prima abbiamo fatto una carta per individui, non dovevamo quindi fare i sottogruppi, adesso invece abbiamo a che fare con una carta con sottogruppi, ok? Sottogruppi di che dimensione? Andiamo a vedere, per capire se usare una carta R o una carta S, i sottogruppi, guardateli qua, sono di dimensione 5, quindi useremo una carta R, indubbiamente, perfetto. Allora adesso con un semplice comando, semplice ma chiaramente per chi conosce il linguaggio, però con molta semplicità, una riga di codice, vado a definire i sottogruppi. Quindi eseguo questa riga di comandi, codice, definisco i sottogruppi, faccio ed eseguo. Ora se controllo la dimensione, vedete, ho 65 gruppi da 5 elementi, ok? 65 gruppi da 5 elementi. Mi torna come cosa? Boh, controlliamo, controlliamo che, vedete, mi torna perché avevo 325 record, no? Incapabilite, avevo 325 record, qua me lo dice, chiaramente. Avevo 325 record e ora con questo raggruppamento ho 65 gruppi da 5 elementi. 65 per 5, 325, ok? Quindi tutto ha funzionato correttamente. Diamogli pure un'occhiata anche, quindi ci mettiamo accanto thickness, lo stampiamo un attimo a video, vedete? Riduciamo un attimo qua, ecco, vedete? Questo è il nostro dataset raggruppato per elementi di 5, in sottogruppi da 5, vedete? Giusto per... R permette di andare a vedere, proprio di scendere sul numero, sul dato in un modo molto preciso e puntuale, quindi si può vedere di tutto, però tipicamente voi questo ve lo fate vedere solo per curiosità, ma non è senz'altro la cosa su cui dobbiamo andare a incentrarci, quanto piuttosto, ora, andiamo a fare una carta R. Eseguiamo quindi questa riga di comando, su thickness, ecco qua la nostra carta R, esegniamola. Siccome la carta R sembra essere tutta a posto, non ci sono punti fuori dai limiti di controllo, non ci sono andamenti strani, tutto sembra regolare, se la carta R è a posto, voi sapete che siamo statisticamente autorizzati ad eseguire anche la vera e propria carta X bar, quindi la carta di controllo X bar. Perfetto, ma prima vogliamo controllare se per caso i grafici tornano con Minitab, ma ok, facciamo prima anche la carta X bar, vedete qua sotto, visto che R era a posto, mi autorizzo a fare la X bar, la eseguo e la carta X bar, ahimè, mostra 7 punti fuori specifico, vedete, number, beyond, limits, 7. Eccoli qua. Bene, a questo punto andiamo a vedere se per caso Minitab aveva prodotto qualcosa di simile, per non dire uguale. Quindi ci spostiamo qua, apriamo il grafico 3, dove troviamo la carta R, eccola qua sotto, identica alla nostra, e la carta X bar R per thickness, vedete, questo è fatto con Minitab, come vedete il risultato è lo stesso, 7 punti fuori specifica, vedete, 7 punti fuori specifica, ve li ho fatti vedere un dopo l'altro in modo tale da vedere che sono identici, abbiamo ottenuto la stessa identica carta, le stesse identiche carte. Quindi con R, ancora una volta, abbiamo riprodotto lo stesso risultato, sia numerico che di rappresentazione grafica, a partire dallo stesso dataset. Notate anche, qua abbiamo i valori di specifica sopra e sotto, nella X bar 38, 98, 41 e 68, 38 e 41, lievissima differenza, ma qualitativamente, da un punto di vista di analisi statistica, il risultato è assolutamente identico. Andiamo oltre, andiamo oltre, facciamo anche una capability a questo punto. Procediamo, ecco la nostra capability, eseguita con R, vedete, che CPK abbiamo? Abbiamo un CPK di 0,442, quindi un processo non propriamente molto capace, vediamo la stessa capability, eseguita con Minitab, qui abbiamo avuto 0,442, ok? Per la capability eseguita con Minitab, andremo a vedere il grafico che mi sono salvato, G4PNG, eccolo qua, CPK, 0,44. Stesso risultato, quindi sia Minitab che R ci rendono lo stesso identico risultato, sia per rappresentazione grafica che per valori, che sono poi quelli che sono più importanti da guardare, e soprattutto, se volessimo fare anche una considerazione statistica, questo processo va decisamente rivisto, perché con un valore del genere di CPK, è un processo decisamente non buono, ma questo è un commento che va al di là dello scopo del webinar di oggi. Vi faccio vedere qualche altro esempio con R. Possiamo fare anche la curva della funzione operativa caratteristica, guardate che roba carina, questa praticamente mi va a fare una stima degli errori del secondo tipo, ovvero la probabilità che io non mi accorga di andare fuori di un certo numero di deviazioni standard, di andare fuori dai limiti di processo di un certo numero di deviazioni standard. e vedete per esempio, questa è fatta con R, vedete per esempio che, dunque, con una sola misurazione, ok, n uguale a 1, che è questa linea tratteggiata qua, la mia probabilità di andare fuori, che so, addirittura di 3 deviazioni standard, se vado a vedere, è circa del 50%, vedete, addirittura ho una probabilità del circa quasi il 20% di andare fuori di ben 4 deviazioni standard, il che torna. Viceversa, con 20 osservazioni, posso andare a vedere quella che invece è la riga col tratteggio più fine qua, vedete, la probabilità di andare fuori di una deviazione standard è piuttosto bassa, vedete, è decisamente più bassa rispetto all'altra. Questo è giusto per farvi vedere un altro tipo di grafico offerto da questo package, che ci dà un'idea appunto della probabilità di incorrere in errori del secondo tipo. Poi possiamo fare anche cose un po' più complicate, tipo vedere un grafico con la media mobile e lo smorzamento esponenziale, scusate, ho svegliato a schiacciare io, ho la tastiera, ecco qua, grafico un attimino più complesso, allora, cosa ci fa vedere? Con le crocette vediamo i nostri punti, no? Mentre invece quelli rappresentati in nero e rosso sono i punti smorzati appunto con questa funzione esponenziale che li schiaccia. Cosa ci fa vedere? ci permette di vedere, ci permette di andare a individuare eventualmente dei segnali più piccoli, meno facili da notare di qualcosa che non va. Cioè, se c'è qualcosa che debolmente non va, in questo modo riusciamo a metterlo in risalto. E infatti vedete che prima con la carta di controllo avevamo sette punti fuori controllo. Con questo metodo ne vediamo otto. c'è anche un altro punto che ci va fuori controllo. Vedete, number of points behind limits 8. Quindi avevamo un, cioè con questo tipo di analisi possiamo vedere che è anche un pochino più critico di come pensavamo l'inizio di questa serie di misurazioni. Comunque, giusto per farvi vedere un altro tipo di grafico svolto con R a partire da dati di Minitab. E a questo punto andiamo avanti. Vediamo anche una carta per attributi. Una carta per attributi, quindi andremo a caricare il dataset pistons che, se non ricordo male, era quell'esempio in cui si andava a vedere i difetti su una linea di produzione di pistoni. Dataset, comunque al di là di cosa fosse il senso, vediamo una carta per attributi. Sì, vedete, era il sample size e il... cioè, quindi quanti campioni andiamo a vedere e su, per esempio, in questo caso 1195 campioni quante unità difettose abbiamo trovato? 99. Quindi, in questo caso, la carta per attributi da svolgere è una carta di tipo P. Importiamo il dataset. Pistons, vedete, sono 51 osservazioni. no, scusate, questo lo lo reimportiamo perché vedete che si è importato 51 non va bene, si è preso i nomi ha preso i nomi delle colonne come se fossero valori e direi che non va assolutamente bene. Dataset anzi, aspettate, prima possiamo pure buttare via tutto questo tanto non ci serve più, ok, ora andiamo a importare il dataset next hop dataset webinar dataset prendiamo questo questo ecco, vedete heading yes ok, perfetto perché vedete prima con questa impostazione lui si prendeva i nomi delle colonne come valori e dava lui dei nomi ai vettori vettore 1 vettore 2 vettore 3 invece io ho gli headings eccoli qua antivirus sul mac è una cosa senza senso ok, facciamo import e abbiamo importato il nostro dataset perfetto adesso scusate torniamo al nostro codicillo R questa volta è proprio un codicillo da poco vedete non l'avessimo ancora fatto importiamo la libreria ma ce l'abbiamo già vediamo con cosa abbiamo a che fare giusto per controllare che i nomi siano corretti vedete defective units notate che R automaticamente si è rinominato le colonne togliendo gli spazi e mettendo i punti perché gli spazi sapete che nei linguaggi di programmazione non sono proprio una scelta felice quindi tipicamente vengono evitati e ora andiamo a fare una carta P vedete type P l'unica cosa che vi segnalo qua nella riga di codice è che andremo a fare una carta di tipo P ed eccola qua zoom vedete siccome la dimensione dei sample era variabile anche i limiti di controllo sono variabili esattamente come fa Minitab e ci segnala un punto fuori controllo vedete questo punto qua andiamo a vedere cosa ha fatto invece il buon Minitab ecco qua la stessa carta fatta con Minitab come vedete al di là dei colori e delle presentazioni che vi ripeto in R possono essere su tutte cose personalizzabili fino all'estremo vedete la carta è assolutamente identica quindi abbiamo anche in questo caso eseguito una carta P sui dataset di Minitab confrontato risultato con Minitab e vediamo che abbiamo prodotto lo stesso tipo di risultato quindi ce ne torniamo qua ecco fatto quindi abbiamo visto anche una carta per attributi questo package in particolare fa tutte le carte dunque ha anche le carte G G di Genova quella per venti rari ha le carte C P P NP RS X bar quindi dispone un po' di tutte quelle che sono le carte principali ora vi faccio vedere un esempio un po' più antipatico l'esempio in cui abbiamo a che fare con dati non normali quindi prima cosa andiamo a caricarci il dataset questo chiudiamo andiamo a caricarci il dataset text files andiamo a prendere ceramics dataset ceramics ecco qua il nostro dataset vedete che c'è una colonna sample che dà la dimensione in questo caso la dimensione è 10 vedete quindi useremo nel caso sicuramente una carta S anziché una carta R perché la dimensione dei gruppi è pari a 10 quindi un giro di 8 importiamo abbiamo ceramics sono 200 osservazioni tre variabili ecco le qua perfetto a questo punto torniamo al nostro codice cominciamo le analisi il package l'abbiamo già importato e via importiamo anche un altro package guardate un po' che bello esiste un package già fatto che esegue la trasformata di johnson trasformata di johnson che vi ricordo serve per trasformare dati non normali in dati normali cioè normalizza i dati vediamo come al solito i nomi con cui abbiamo a che fare almeno siamo sicuri di chiamare le variabili giuste abbiamo tre campi si chiamano concentricità date time sample perfetto definiamo i gruppi i gruppi li definiremo li definiremo grazie a concentricità e sample useremo sample anziché date time per comodità che lavorare con le date e i tempi è sempre un po' più scomodo che non lavorare con dei bei numeri interi ok ora vediamo la dimensione di quello che abbiamo creato abbiamo 20 gruppi da 10 elementi ciascuno torna perché 20 per 10 fa 200 avevamo 200 osservazioni tutto a posto a questo punto facciamo una carta S per vedere se siamo autorizzati a fare una carta di tipo X bar ecco qua la nostra carta S guardiamola bene la forma tutto sommato non stiamo violando i come si dice i limiti vedete rimane tutto dentro il limite superiore e inferiore però guardandola purtroppo i dati sono pochi se fossero più dati forse potremmo vedere qualcosa di più guardandola vediamo un trend ci sembra di intravedere una forma non proprio piacevole vedete che sembra eseguire una curva l'andamento dei dati però chiaramente su questa carta messa così non possiamo fare nessun altro tipo di considerazione né valutarla come risultato di analisi statistica anzi l'unica cosa che possiamo dire è ok non vengono violate i limiti superiore posso fare la carta x bar s la faccio ho anche una carta x bar eccola qua la carta x bar sembra tutto a posto non viene violato nulla quindi il processo sembra sotto controllo allora adesso vado avanti con la mia analisi e svolgo questa volta eseguo seleziono entrambe le righe andrò a eseguire questo codice e ora facciamo quello che è un normal probability plot andiamo a vedere se per caso questi dati sono normali oppure no lo vediamo con un metodo grafico facciamo run ecco il risultato come vedete da questo normal qq plot che viene fatto vedete mettendo i quantili teorici rispetto ai quantili del sample vedete è chiaramente un dataset che non è distribuito normalmente questo è fuori da ogni dubbio perché vedete come assolutamente la distribuzione dei punti sia ben lontana dalla distribuirsi su una retta quindi abbiamo a che fare con un dataset non normale che vuol dire che la capability se io la andasse a fare con un metodo normale mi darebbe un risultato assolutamente errato banalmente errato cioè mi darebbe un risultato Minitab peraltro con l'assistant mi avvertirebbe dicendomi guarda che stai utilizzando dei dati non normali se vuoi te li trasformo con una trasformata di Johnson ma stai utilizzando dei dati non normali possiamo fare anche un calcolare un p-value vedete il p-value è bassissimo Minitab in questo caso dice per il p-value che è minore di 0,05 non lo quantifica R invece lo quantifica vedete è un numero piccolissimo perché parliamo c'è un esponente alla meno 11 quindi siamo veramente ben lontani con il test di Shapiro Wilk per la normalità siamo ben lontani dalla normalità allora adesso facciamo una bella cosa adesso facciamo la trasformata di Johnson facciamo questa eseguiamo questo comando lasciamo che esegua ok ha eseguito diamo un'occhiata questo y vedete il risultato di questo y fatto così per ora ho fatto solo scusatemi ho sbagliato tastino vedete il risultato di questa trasformazione che ho eseguito è che mi ha reso attualmente i parametri da inserire nella trasformata i parametri utilizzati per la trasformata di Johnson la formuletta l'ho scritta qua in un commento è gamma più eta per il logaritmo del valore meno epsilon no? gamma vedete eta epsilon quindi io posso andarmi a calcolare il limite superiore per questa capability perché se vado a farmi la capability sui dati trasformati e mi tengo il limite a 30 è assolutamente non equiparabile con i dati trasformati dalla trasformata di Johnson cioè diventano una cosa assolutamente non c'entrano più l'uno con l'altro quindi devo trasformare anche il limite per farlo non faccio altro che prendere i valori che mi ha calcolato la trasformata di Johnson e i valori utilizzati per trasformare i dati e mi calcolo il limite superiore ecco qua posso evidenziarlo oppure mi metto accanto e faccio così ok e adesso il mio nuovo usl che prima era 30 è pari a 1 e 88 vedete perfetto a questo punto eseguo un comando leggermente diverso adesso fregatevene di come perché per quanto vedete prima semplicemente ho fatto la trasformata di Johnson e ho ottenuto ho voluto ottenere i coefficienti perché mi servivano per calcolarmi anche i limiti di specifica della capability adesso invece trasformo proprio i dati quindi aggiungo questo dollaro transformed eseguo questa riga guardate eseguo questa riga chiaramente lui fa il suo calcoletto l'ha svolto ora se vado a vedere y anziché i parametri guardate cosa mi rende mi rende i valori del mio dataset trasformati affinché possano essere normali infatti ora se vado a fare un controllo stesso grafico di prima un QQplot dei dati trasformati con una trasformata di Johnson cosa mi verrà fuori vediamolo oh perfetto vedete ora i punti nel mio QQplot si distribuiscono bene a parte qualcosina alle code ma è un effetto assolutamente tipico e in questo caso trascurabile su una retta quindi a questo punto direi che abbiamo effettivamente normalizzato i dati possiamo anche fare calcolare il p-value con il metodo di Shapiro vedete ho un p-value di 0.4 quindi è maggiore di 0.05 i dati decisamente sono normali e quindi sono in grado di eseguire sia le mie carte di controllo a parte quello ma soprattutto di eseguire la capability con un metodo per dati normali ed è quello che ora andremo a fare prima eseguiamo facciamo i gruppi ok rivediamo la dimensione di y togliamo che sia tutto a posto 20 gruppi da 10 rifacciamo per curiosità la nostra x-bar controlliamo tutto a posto vedete questa è l'x-bar fatta sui dati normalizzati ok ho dovuto rifarla perché questo metodo per calcolare la capability parte da un oggetto di tipo x-bar voi sapete che i valori utilizzati per la carta di controllo vengono poi impiegati nel calcolo della capability quindi per eseguire una capability a me serve avere anche i valori della carta di controllo per questo motivo ho dovuto ricreare la carta di controllo x-bar in modo tale poi da utilizzare vedete questa variabile my norm obj il mio oggetto normalizzato dentro al comando per eseguire la capability capability che ora vado a eseguire capability normal capability su dati normalizzati mi viene un cpk di 0 622 vedete 0 622 perfetto vado a vedere cosa mi rendeva Minitab eccolo qua questo è il lavoro prodotto da Minitab vabbè qua viene riportato il ppk 062 vedete i valori sono identici comunque assolutamente equiparabili questi peraltro sono i valori della trasformata di johnson utilizzati da Minitab vedete meno 3 8 1 6 7 1 0 1 6 1 e noi che cosa avevamo noi avevamo noi avevamo meno 3 8 1 0 1 6 e 1 sono gli stessi identici coefficienti utilizzati nel calcolo da Minitab quindi la trasformata di johnson anch'essa viene eseguita in modo identico da R e da Minitab e la capability il risultato finale di questo processo abbiamo cpk 0 6 2 2 con R e 0 6 2 di ppk con Minitab vedete stesso risultato anche in caso di dati non normale abbiamo eseguito una trasformata di johnson abbiamo lavorato con i nostri dati abbiamo ottenuto lo stesso risultato benissimo ma ok qua abbiamo visto il codice abbiamo visto tante belle cose abbiamo visto che R può fare tutto ciò ce ne siamo fregati del codice e vi prego di dimenticare questa tabella questa finestra sulla sinistra perché non è questo il punto quanto far vedere che R esiste e può eseguire tutti i dati di spc gauge R&R DOE ogni quant'altro voi possiate immaginare una statistica per la qualità in modo assolutamente identico a Minitab ma torniamo alla domanda principale ma devo conoscere R no la risposta è no no perché esiste la possibilità di vedere qualcosa di utilizzabile con mouse e nessuna riga di comando questo è una versione prototipale di EasyR ok siamo entrati in cui peraltro sono stati importati anche un paio di dataset di Minitab vedete quello dei colori quello dei gelati sono entrambi inseriti guardate per esempio vi faccio vedere un esempio banale della basic statistics su un campo di questi valori guardate ora io sto utilizzando R per fare un'analisi di basic statistics su questa su questo dataset avete visto del codice no sono dentro un browser questa stessa cosa la potrei fare su uno smartphone o su un tablet assolutamente dovunque io sia purché io abbia un browser recente e una connessione in internet basta beh chiaramente è un account che mi faccia accedere a EasyR ok vedete ho eseguito con R una serie di analisi quindi ho calcolato mi da la numerosità mi da la deviazione standard la varianza il p-value e poi ho il minimo il primo quantile la mediana terzo il valore massimo più una serie di quattro grafici che ho voluto inserire vedete quindi c'è la campana teorica a partire dalla direzione standard della media della popolazione misurata vedete rispetto al suo bell'istogramma un box plot si vede un outlier i punti sperimentali i punti reali in dispersione in sovrapposizione sul box plot un qq plot una dispersione dei punti per vedere se c'è un trend eccetera varie cose potevo mettere tutto quello che volevo sono un'analisi di basic statistics svolta interamente con R fatta senza che io debba toccare il codice poi chiaramente per esempio posso scaricarmi in un comodo pdf tutti i grafici che attualmente la rete mi sta facendo un brutto scherzo comunque si possono scaricare i grafici oh eccoli qua arrivati vedete grafici in formato pdf io qua posso salvarmi in pdf e i miei grafici anche qui i grafici possono essere sono vettoriali quindi li potete ingrandire trasformare come volete possono essere inseriti i parametri per trasformarle a piacimento ma non solo vi faccio vedere un'altra cosa voglio farvi vedere qualcos'altro questo è uno dei tool vedete sono andato nella sezione tool c'è un r editor che mi apre un'altra finestra qui ho un po' di progetti salvati vi voglio far vedere un po' di progetti salvati dove vedrete ancora del codice e a fianco il risultato voglio farvi vedere un esempio di pareto beh chiaramente easyr vi permette di andare a colorare il codice in mille modi esattamente come lo permette il restudio che abbiamo visto prima anche in questo caso ho delle degli avvisi sulle parentesi vedete se vado su una parentesi mi si colora quella compagna in modo tale che per chi programma è comodo posso eseguire solo una riga di codice piuttosto evidenziandole facendo run piuttosto che non selezionare nulla fare run ed eseguire tutto il codice che ho a disposizione ecco qua un'analisi di pareto fatta con r vedete c'è tutto un output sia di testo sia grafico il classico grafico di pareto anche in questo caso posso scaricarmi il mio bel grafico di pareto ok voglio farvi vedere anche giusto rimanendo nel discorso della statistica per la qualità anche 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 un diagramma causa-effetto avevo qua un esempio pronto chiaramente anche qui se volessi posso colorare ci sono varie colorazioni ma queste sono robe fuffologiche eseguo e voilà con R sono andato a crearmi un diagramma a causa-effetto vedete che posso asportare posso ingrandire salvare fare tutto quello che voglio chiaramente anche in questo caso tutta la colorazione tutto quello che è l'estetica la presentazione del grafico può essere personalizzata e allo stesso modo in cui vi sto facendo vedere queste analisi banalmente premendo un tasto tutte queste analisi possono essere svolte come abbiamo visto prima quando abbiamo fatto la basic statistic in fin dei conti voi potreste non vedere minimamente il codice che gira sotto che è la stessa cosa che fa Minitab perché anche Minitab ha un codice che voi non vedete ma che lui esegue potreste non vederlo premere un tasto e avere le vostre analisi questo è il concetto di EasyR noi lo andremo ad approfondire parecchio partendo da questo tipo di interfaccia dove avremo a disposizione tutta una serie di funzionalità per la statistica per la qualità e altri esempi e lo andremo a vedere nel webinar del 31 gennaio vedrete come EasyR vi spiegherò poi bene come possa essere o allacciato a database aziendali preesistenti oppure andare a integrare database esistenti o disporre a se stesso di un database che è per metà relazionale e per metà non relazionale quindi in grado di gestire dati i cosiddetti e famosi big data quindi grandi dati storici enormi flussi di dati come possono uscire da linee di produzione eccetera eccetera per qualsiasi domanda su EasyR vi prego di non farvi nessun tipo di remora e chiedere EasyR non è un prodotto EasyR è una soluzione sviluppata ad hoc custom sulla esigenza dell'utente finale chiaramente si parte da quello che è un template un framework di base che ne abbiamo a disposizione che state vedendo ma ogni cosa al suo interno a partire dai colori la disposizione dei menu la presenza o meno di log aziendali sfondi nomi dei comandi lingua utilizzata ogni cosa può essere personalizzata esistono diversi tipi di privilegi di utenti quindi utenti che possono solo inserire dati utenti che possono eseguire analisi utenti che possono accedere solo a certe funzionalità eccetera eccetera ogni cosa può essere logata tutto questo e molto altro lo vedremo nel webinar del 31 di gennaio dove proprio parleremo di EasyR per chiudere con un qualcos'altro per vedere come R possa eseguire grafici anche più complessi faccio vedere un esempio sul trading in questo caso andremo a fare una connessione a dei servizi open di Yahoo Finance e andremo a vedere gli ultimi 120 giorni del titolo di Apple in borsa diciamo run ci ha messo un po' di più perché si è dovuto connettere ora vedete questi grafici li vediamo un po' più in grande sono fatti con R nel tempo che abbiamo avuto tra il mio click e l'output del grafico c'è stata un'interrogazione a un database di Yahoo l'elaborazione dei dati la creazione dei grafici vedete questi sono grafici tipici del trading però è per farvi vedere come R posso eseguire veramente qualunque tipo di grafico anche molto complesso questo è uno specifico vedete il classico grafico di trading dove abbiamo le bande di Bollinger questa nuvoletta grigina intorno vedete qua ci sono le mediamobili e vedete come effettivamente quando vengono rotte le resistenze in basso il titolo sta per ritornare su quando vengono rotte le resistenze in alto il titolo sta per tornare giù e così via poi i volumi stessi discorsi qua visti in altri modi ma in sostanza per farvi vedere la complessità dei grafici che R può andare a eseguire e con questo io vi ringrazio resto a disposizione chiaramente per qualsiasi tipo di domanda voi possiate avere vi ringrazio veramente per aver seguito con interesse e così numerosi questo incontro di oggi e vi rimando sperando di avervi tutti quanti presenti al prossimo webinar su questo tema che sarà il 31 di gennaio le iscrizioni sono già aperte le trovate sul sito di GMSL il sito è gmsl.it vi ringrazio e vi auguro buona giornata grazie a tutti